La nuova storia si costruisce giorno per giorno, dice Romano Carancini al termine di un 2010 che l'ha incoronato sindaco di Macerata, ma ogni giorno porta la sua pena per il primo cittadino che vuole scrivere una nuova pagina di storia a Macerata con una maggioranza che la sta trasformando in una corsa ad ostacoli. Una maggioranza che ricalca pedisseguamente l'unione che ha mandato in frantumi il governo Prodi nel 2008, con gli stessi disequilibri interni, gli stessi cespugli della sinistra riottosi e con l'aggravante di un partito democratico ondivago che ha spesso messo i bastoni tra le ruote alla giunta, dalla sua Giorgini alla mini tematica fino alle nomine nelle partecipate. Ma Carancini ci crede ancora e cerca un nuovo equilibrio che restituisca un'immagine di compattezza per la maggioranza simile a quella che sosteneva il suo predecessore, altrimenti il rischio, dice lui stesso, è che la conflittualità si trasformi in delegittimazione con un lento logoramento stile Prodi. Non tiene conto il sindaco dei nuovi equilibri politici che si stanno profilando all'orizzonte e che si concretizzeranno nelle provinciali 2011, dove probabilmente si ricalcherà lo schema adottato alle regionali nelle marche dello scorso anno, con PD e UDC insieme all'Italia dei Valori, ma senza ala sinistra. I capricci del partito di Casini in questo Natale 2010 rischia di mandare di traverso il panettone ai vertici del PD a livello nazionale, ma anche a Macerata, l'incognita centrista e da non sottovalutare.